Incidente stradale, questa mattina presto lungo la statale 28 del Col di Nava tra Imperia e Ponte d'Assio. Nonostante la spettacolarità del sinistro, non si sono fortunatamente registrati feriti gravi. L'incidente si è verificato verso le 6.30, protagonista un furgoncino che dopo essere uscito di strada è finito in una fascia sottostante senza coinvolgere altre vetture. A bordo c'era un uomo che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Subito dopo è stato trasportato all'ospedale in condizioni comunque non gravi. Sono ora in corso le indagini per capire i motivi per i quali il conducente del mezzo ne abbia perso il controllo.